Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video Allora oggi vedremo come collegare un mouse a un tablet Allora ragazzi per collegare il mouse al tablet ci servirà il cavo OTG che potete acquistare dai cinesi Un mouse, io utilizzo un mouse con ricevitore Wildness E un tablet Adesso prendete il cavo OTG e lo inserite dentro la porta micro USB Poi ricevitore USB dentro la porta USB Allora ragazzi è l'ora di provare il mouse Ok, come potete vedere funziona A me questi giorni non ha dato problemi Ok, adesso vi apri un attimo Word e provarlo a chiudere Non andate troppo veloci a chiuderlo, chiudete piano e si chiuderà sempre l'app Ok ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like Commentate, iscrivetevi e condividete questo video con amici o con chi vi pare Ciao a tutti